Ma Camilla, io amo solo te. Però scopri solo con le altre, mi sembra normale. Cosa credi che mi diverta andare con le altre? Tu non mi ami più. Mi fai schifo. Voi servire da uno psicologo, mi ha fatto stare meglio. Sono capace anch'io di stare meglio, se divento stronza. E che cosa ti aspetti dalla terapia? Di Camilla posso fare a meno quando voglio. Io non ho bisogno, io non ho bisogno, io non ho bisogno. Luca dipende da una donna. Un pochino. Riconquistare il letto. Dimenticare il letto. Allora? Allora, mambo. Oggi, tandem. In tandem. Ho ritrovato il desiderio grazie al tantra. Col pensiero di Deepak Chopra. No, ma questo è sessualmente repressivo. Devi scoprire tutto quello che le fa fare sta deficiente. Vabbè dai, siamo io e te te lo posso dire. Questa è una di quelle arracchie frustrate che scopano male. Ti sto parlando dei miei problemi, non di quelli della psicologa. Ma che ci fai qui? Lui è Pietro. Vi conosciete già? Sì. Noi ci siamo conosciuti stasera, le ricordo. Senta, dei problemi tra colleghi ne parliamo a casa. Blanca. A casa Blanca, a casa Blanca c'è un convegno mondiale. Guardi che lei deve venire per forza. Lei è una merda! Stronzi! Io ti sto lasciando! Ci stiamo lasciando! L'amore è come l'elettricità. Tutti la usano, ma come funziona non l'ha mai capito nessuno. La pedalata è in sincronia, stimola l'amplesso. La banda di E allora Mambo va sempre più forte. Va in tandem. Quella teoria secondo la quale se se la si scopa il venerdì la donna il sabato poi sta zitta. Su che rivista è pubblicata?